Un capitolo che non è veramente un capitolo, perché in realtà non succede niente, ma lo chiameremo capitolo 4. Non succede niente in questo capitolo, ma ci saranno le risposte a qualcuna delle domande che probabilmente vi stanno già frullando per la testa. Per esempio questa. Perché? Perché cosa? Perché i ridarelli avevano messo la cacca sul marciapiede? Ottima domanda! Ce l'avevano messa perché la sera prima di andare a piedi alla stazione, il signor Mac aveva fatto una cosa. Ma ve la racconto più avanti, perché questi capitoli in cui non succede niente diventano subito noiosissimi. Adesso torniamo alla storia.